È un'occasione unica penso, però sono convinto di far solo bene. Su tante chiacchiere posso dire bene, posso dire male. Preferisco non rispondere a nessuno, saranno solo i fatti che potranno darmi ragione se effettivamente siamo capaci di fare calcio e speriamo a Trieste di essere in grado di poterlo fare. La squadra c'è, ci stiamo impegnando a consolidarla, stanno arrivando nuove persone, nuovi giocatori, dobbiamo mettere in piedi tutto il sistema e speriamo di farlo bene. Ora dopo ora viene sempre fuori un problema, piano piano lo stiamo risolvendo, abbiamo sistemato i ragazzi, non li abbiamo sistemati totalmente, però abbiamo dimostrato un segno importante che ci siamo. Abbiamo promesso che per le feste di Natale avranno il loro. Ringrazio quelli che c'erano prima, ringrazio questi che sono rimasti, che ci danno ancora più fiducia degli altri. Però devo ringraziare tutti perché oggi la Triestina ha 20 punti e non sono pochi. Nelle condizioni che poi potevano trovarsi bisogna solo dire grazie e basta. Vedrà che i tifosi saranno spero soddisfatti e contenti dell'operato che andremo a fare. Ci presenteremo domenica a Sant'Elena, non dobbiamo sperare su niente perché siamo appena arrivati, però ci presentiamo convinti di giocare a calcio, che è la cosa più importante e che i giocatori si divertano. Ci sarà la prossima settimana sicuramente una conferenza stampa dove verrà presentato tutto l'organigramma, verranno presentati i nuovi arrivi e saranno ospiti anche i tifosi, tutti quanti quelli che vogliono partecipare. Noi le porte aperte sono per tutti. Noi le porte aperte sono per tutti.